Ragazzi qui è sempre il vostro manovaking82 Tasera siamo qua in un altro deadmatch Ci ha invitato X-Dexter Guerra tra gang anni 80 Eccoci qua Saluto tutti gli amici in sessione Siamo contro X-Dexter E andiamo Mettiamo 1000 E si parte ragazzi Mi sembra che siamo in 8 contro 8 E' subito carabina speciale Andiamo Stavano già camperando sui tetti Andiamo giù bottino Ci investe una macchina dei civili incredibile E ci massacrano la terra Partiamo malissimo Siamo tutti compagni di squadra Che salgono i pipetti Ci hanno massacrato da dietro Continuano a sponare alle spalle Andiamo ragazzi Andiamo Eccoli Sono tutti sui tetti Ancora Marcos Ancora Marcos Non so ragazzi Mi sa E' un brillant Ci ha polverizzato E' un brillant Catrampo E' un brillant Tambiel Perrin E' un brillant No E' un brillant Mi usLu quando ho preso lo stesso, incredibile, 23 29 pazzo italiano, si spazza via andiamo ragazzi guarderla sul tetto andiamo, eh ci hanno preso proprio all'ultimo sono tutti camperati a cecchinare veramente un casino abbiamo fatto appena 7 kg la salta tutto andiamo ragazzi si capisce niente, continua a scoppiare bombe ancora Marcos, 3 a 1 100 colpi di minigun che mi cadono addosso non ci ha preso stiamo perdendo 43,62 facciamo il giro andiamo ragazzi siamo caduti grazie a tutti stiamo ammazzando adesso serie positiva non muoiono si hanno preso non muoiono, non muoiono, non capisco come mai ho scaricato addosso un caricatore intero guardate con i miei già, dopo il luogo muoiono non mi miei già che loro stiamo freddo 176 8205 lo hanno secchinato ragazzi come ne ammazziamo uno ci ammazza subito un altro incredibile ancora gente sui testi guardate non muoiono gente col ninja diciamo tabula rasa c'è c'è niente ragazzi pazzo italiano giocatore più importante è stato un casino questo deadmatch prendiamo 12.000 soldi e quasi 3.000 rp complimenti ai vincitori la squadra di dextra abbiamo perso anche la scommessa sono stato il giocatore più importante della mia squadra ma non è bastato complimenti a pazzo 26 kill io 24 bene se il video vi è piaciuto lasciate un like qui da ManuVaking è tutto e al prossimo video